La Maico, istituto acustico leader del settore, compie 65 anni e sceglie di festeggiare questo importante compleanno all'Exaurum di Pescara, la città dove 65 anni fa tutto ebbe inizio. Oggi è un bel giorno per Pescara, è un compleanno da ricordare perché l'impresa Maico, nata a Pescara e cresciuta, si è espansa a livello nazionale, è un'impresa che non dimentica mai il territorio, è un'impresa innamorata del proprio territorio e soprattutto è un'impresa che sa restituire il territorio perché non pensa soltanto al guadagno ma pensa alla possibilità di far crescere le realtà in cui opera attraverso messaggi chiari. Sono state portate avanti in questi anni iniziative importanti, iniziative di prossimità basate sulla prevenzione, una prevenzione primaria, secondaria e terzaria, specialmente anche, devo ricordare, nel periodo del lockdown sono stati molto vicini a quelle famiglie che avevano difficoltà ad udire, quindi ad ascoltare e quindi a comunicare. Per l'occasione la Maico ha donato 65 alberi al comune di Pescara destinati alla Pineta d'Annunziana, tanti gli ospiti illustri in questo speciale compleanno, dal giornalista Luciano Onder all'Olimpionico Yuri Chechi. Ecco, diceva che c'è una correlazione tra la sua storia e quella della Maico, come mai? Forse perché entrambi vi siete fatti dal nulla? Sì, bravo, questo è sicuramente un link delle due storie, ora cercando di trovare dei link, ma questo è quello. Ho parlato anche con Mauro che è il figlio del fondatore, che ancora non ha avuto la fortuna di conoscerlo, lo farò fra poco, però effettivamente è una storia di un uomo di grande determinazione, di grande capacità, di un uomo che come me ogni giorno era lì sul pezzo e non mollava finché l'obiettivo non è stato raggiunto, superando anche difficoltà importanti.